Federico Brambilla ciao benvenuto alla nostra live di quest'oggi. Ciao Valentina ciao Alessio come state? Tutto bene grazie. Meno male mi sentite bene? Sì sì sì. Meno male, meno male, meno male, meno male. Allora noi in questa prima mezz'ora abbiamo un po' raccontato e la vostra ricerca fatta con Nielsen anche a chi appunto non conosce gli e-sports. Allora abbiamo dato i dati anche perché ne approfitto per prendere subito il commento scusa mi vale ci chiedeva il nostro spettatore qual è la fonte di questi interessanti dati mi diamo subito la risposta. Subito andiamo in diretta, vi presentiamo chi ha condotto questa ricerca. Allora quali sono i trend degli e-sports in Italia? Allora faccio un breve pre su chi sono, giustamente Valentina mi hai introdotto bene nel senso che io sono il vicepresidente e rappresentante della parte e-sports di IDEA che è sostanzialmente l'associazione di categoria in ambito videoludico in Italia quindi è esattamente quell'entità che raggruppa in pancia sua tutte quelle aziende che lavorano nel settore videoludico quindi abbiamo dai platform owner ai publisher ai developer quindi platform owner sony nintendo microsoft a livello di publisher activision blizzard elettronica arts epic games e molti altri poi c'è una grossa parte di developer italiani con con rappresentanze italiane nel 2019 IDEA che all'epoca si chiamava ESBI che era l'associazione di editori di sviluppatori italiani di videoludici indipendenti ha aperto anche le parte da un punto di vista e-sports quindi in realtà il rapporto che voi giustamente avete fatto vedere qualche slide è sostanzialmente una terza edizione perché noi ogni anno insieme a nielsen per tenere un po il termometro di quello che il settore in un certo senso si sta muovendo da un punto di vista italiano dobbiamo fare come associazioni di categoria e vogliamo fare insieme ai nostri soci soprattutto da un punto di vista esports noi in questo momento abbiamo 14 realtà tra team e tourment organizer io sono anche rappresentanza di un team che si chiama Exeed il quale sono il uno dei co fondatori uno dei due co fondatori e secondo me il dato in un certo senso più importante è la crescita che esattamente questo settore sta avendo a settembre noi abbiamo presentato il rapporto durante un nostro evento digitale round one e da quei dati quindi da un milione e quattrocentomila siamo passati a più di a più di un milione e mezzo di persone che segui esport settimanalmente e quasi mezzo milione che segui esport tutti i giorni con una crescita intorno al 16 17 per cento in soli in soli sei mesi un altro secondo me è dato interessantissimo di tutti quei di tutti quei dati che giustamente avete fatto vedere è come il settore esports si sta muovendo e sta avendo un appeal a differenza del settore sportivo molto spesso c'è questo parallelismo no tra esports e sports molto va anche della parola perché esports è per electronic sports ok quindi sports elettronico c'è un dibattito in atto in questo momento se può essere riconosciuto come sport o meno ma non entrerei in questo momento però è invece dopo ci proverei un pochino però ok va bene no non ci mancherebbe altro va bene allora lo affrontiamo in un secondo momento quello che è interessante è che alla fine stiamo parlando di un mondo digitale ok che ha come finalità ultima quello che è un evento reale pensiamo in italia milano games week napoli comicon lucca comics sono tutti eventi dove i games e gli esporti in un certo senso la fanno o hanno incominciato a farla da padrone lucca comics in realtà è nato come una fiera del fumetto è diventato lucca comics and games milano games week in realtà era una fiera sostanzialmente di publisher di cui l'associazione in realtà deteneva il marchio fino a un paio di anni fa di milano games week è stata venduta e poi ceduta a fandango che in questo momento organizza milano games week e all'interno di milano games week ci sono delle competizioni finali di campionati italiani quindi tutto quello che è gaming tutto quello che esports in realtà sta diventando e ormai è diventato un fenomeno culturale a me piace sempre a volte è sbagliato parlare di stereotipi ma la cosa secondo me interessante è soprattutto in ambito italiano no quali sono i giochi che vanno di più voi giustamente prima li avete visti vanno i giochi sportivi noi alla fine siamo siamo secondo me parlando sempre di stereotipi un popolo di allenatori della domenica quante persone hanno voluto vedere chiesa in campo dal primo minuto ai gironi no quanto ok stupidamente e allo stesso tempo siamo un popolo di cartai ok siamo il popolo della scala 40 un popolo della scopa della della briscola siamo una terra di motori quel il gallo che ha appena vinto sostanzialmente una pre fase o comunque un campionato mondiale è un italiano l'ex campione del mondo di fifa è un italiano l'ex campione del mondo di pes è un italiano l'ex campione del mondo di magico di pokemon sono italiani quindi è dentro esattamente la nostra cultura questo in un certo senso ci fa riflettere quanto le nostre origini in un certo senso influenzano poi quella che è il progresso in ambito digitale e quindi in questo momento in ambito videoludico mi fermo perché sennò potrei parlare mille volte però secondo me questi sono i dati che in un certo senso sono interessanti da vedere un altro dato che secondo me è interessantissimo di quella ricerca è l'audience esports che è più che è una piccola parte del mondo gaming ok perché il mondo gaming è intrattenimento puro dove il videogioco è un mezzo di intrattenimento l'esports esattamente è una competizione dove la competizione a tema videoludico è è il tema dell'intrattenimento stesso però c'è una competizione quindi mi piace subito dare la definizione il gaming l'esports non è il lo youtuber della situazione che fa un video su clash royale ok l'esports è una competizione dove un team gioca contro un altro team dove c'è un campionato dove c'è un torneo dove c'è una comunicazione all'interno e all'esterno di un determinato prodotto come appunto un torneo e la cosa interessante è quanto questa audience che stiamo parlando poi di un target che va dai 13 ai 30 anni quindi prende anche me che sono un baby boomer sia più incentivata e sia allo stesso tempo più ricettiva su quelle che sono magari delle campagne di comunicazione di aziende terze che cercano una visibilità e un posizionamento all'interno di un settore da quel punto di vista lì quindi è in realtà un connettore o una grossa scatola dove in un certo senso si può fare della comunicazione o del marketing sostanzialmente ecco io volevo scusami Vale approfitto per fare subito una domanda perché prima abbiamo fatto delle ipotesi e il concetto è la crescita di quest'ultimo anno secondo te è stata influenzata in qualche modo dall'emergenza sanitaria che stiamo vivendo oppure è una cosa che secondo te sarebbe avvenuta lo stesso che è un mondo talmente in crescita e inarrestabile per certi versi allora sarei stupido a dirti di no Alessio nel senso che quanti di noi hanno ripreso in mano una console o un computer o un cellulare hanno incominciato a giocare a un qualcosa da quel punto di vista lì soprattutto in quel periodo dove tutti comunque trovavamo qualcosa da fare per passare le giornate in casa quindi sì è stato un noto acceleratore questo poco ma sicuro e allo stesso tempo però è fisiologico nel senso che cito non mi ricordo mai il nome un giornalista di SPN America qualche mese fa ha rilasciato un'intervista dicendo che ogni volta che muore un tifoso della Major League di Baseball ne nascono due di eSports quindi in realtà in un certo senso è fisiologico il fatto che se io quando avevo 15 16 anni vedevo allora tifavo Milan poi sono diventato a calcistico e vedevo in Maldini in Baresi no magari dei punti di riferimento ok da un punto di vista sportivo oggi il ragazzo ha continua avere quei punti di riferimento da un punto di vista sportivi ma un palmaresso sostanzialmente dato dai social e data da quella che è la comunicazione digitale che quando avevo 15 anni io era veramente minima rispetto ad oggi e quindi è normale che ci si prova a impersonificare in quelli che sono degli influencer degli youtuber e anche perché no dei pro gamer no da quel punto di vista lì e quindi è in un certo senso fisiologico che nel momento in cui si avanza si cresce si c'è un'evoluzione digitale e allo stesso tempo i ragazzini di oggi o i ragazzi di oggi hanno in mano ormai un telefono ok sia molto più semplice entrare in contatto anche con altre figure dato che il media totalmente è diverso perché io ho la possibilità di entrare in contatto a livello social con una persona che magari a me piace in un certo senso vedere osservare come potrebbe essere un gamer all'epoca io avevo solo la televisione o allo stesso tempo la radio e sembra che io sto parlando di cent'anni fa ok e avevo esattamente quello che mi proponeva quel tipo di media lì senti ma ale andrei io con una domanda mentre stavamo preparando un po la la scaletta no mi è venuto proprio in mente una domanda ma chi gioca chi insomma fa parte di una squadra di e sport guadagna cioè nel senso qual è quali com'è il comportamento di acquisto degli e sport fan appena intravede un'opportunità di però però è comunque c'è nel senso per molti non è solo un passatempo per molti non è solo come appunto anche la vostra ricerca lo rivela non è solo un hobby no no assolutamente se parliamo proprio di pro gamer da quel punto di vista lì è difficile fare o essere un pro gamer partiamo dal presupposto che ci vuole del talento alla base ok e un team esports come magari potrebbe essere exceed quindi il team esport di cui io sostanzialmente sono proprietario deve in un certo senso trovare questi talenti e cercare di mettervi a servizio determinate determinati features quindi come potrebbe essere un team manager un coach per allenarlo un mental coach che magari possa prepararlo mentalmente ad una competizione quindi possa coltivare quel talento lì la differenza che magari c'è da un punto di vista sportivo da un punto di vista sportivo ok che qua non c'è serie a non c'è serie b non c'è serie c ok ci sono sostanzialmente non c'è tutta la serie ci sono quelle cinque posizioni della serie a e quindi la difficoltà è che ci sono talmente tanti giocatori che chi lo fa per professione sono veramente pochi ok e chi in un certo senso guadagna e guadagna per carità anche bene parli parliamo anche di cifre non c'è nessun problema riesce sostanzialmente a farle un proprio mestiere da un punto di vista competitivo è normale che nel momento in cui è un ambiente digitale tutto quello che è la coltivazione della propria immagine social da un punto di vista digitale quindi i propri account instagram tik tok twitch e quindi magari programmer streamer su twitch ha un account youtube crea dei contenuti su instagram arricchisce quello che potrebbe essere poi il valore di un giocatore perché poi il giocatore se è forte allo stesso tempo è seguito ha un valore economico per la società per cui gioca e allo stesso tempo la società per cui gioca è sponsorizzata da determinati partner commerciali che cercano una visibilità e un posizionamento finalizzata la vendita tramite i canali della società ma anche tramite i canali dei giocatori è importante per la società come exeed ad avere i giocatori possono tranquillamente in italia guadagnare da qualche centinaia di euro a qualche decina di migliaia di euro al mese dipende esattamente molto quello che sono i videogiochi quindi ci sono dei videogiochi che vanno di più rispetto ad altri un videogioco un giocatore di fifa da un punto di vista competitivo guadagnerà sicuramente di più da un giocatore di che gioca a nba da quel punto di vista lì e se ci pensate esattamente la stessa identica cosa del calcio perché perché c'è più audience che in un certo senso guarda quella tipologia di gioco cioè ci sono più persone che guardano il calcio gli stadi sono nettamente più grossi rispetto a quelli di basket vendono sostanzialmente dei diritti tv per centinaia di milioni di euro rispetto a quello che il basket e quindi che è normale che il valore del singolo poi è maggiore quindi un giocatore di serie a guadagni da un punto di vista economico di più rispetto a un giocatore di serie a di basket ciò non significa che è migliore o peggiore da quel punto di vista lì però dall'indotto che crea tutto quello che è la struttura quindi ne anche nell'ambito videoludico funziona esattamente così noi paghiamo dei giocatori che vanno dai 16 ai 30 anni da qualche centinaia di euro al mese a qualche miliardi euro al mese dipende da poi quanto un giocatore è forte o è a fine carriera o è bravo è influente e via e via dicendo e questi soldi da dove arrivano questi soldi arrivano sostanzialmente da quelli che sono le sponsorizzazioni che sostanzialmente aziende terze non so se posso fare nomi e quindi fondamentalmente era la domanda che ti volevo fare molte aziende adesso stanno comunque investendo in questo settore ora si ritorna lì aziende anche importanti dal punto di vista della telefonia ma anche dal l'abbigliamento sportivo insomma è un settore molto interessante anche da quel punto di vista lì magari appunto un'azienda sportiva è interessata a vestire uno dei vostri giocatori ecco quindi anche lì è una specie di investimenti che si stanno muovendo un ritorno di immagine che si stanno muovendo sempre più in questa direzione sì esattamente sì noi abbiamo diverse sponsorship proprio sponsorship di maglia e quindi vendiamo oltre che una comunicazione anche quella che è il branding no della propria della propria divisa della propria casacca pensate il milan all'epoca adesso non so da chi è parlo lo sponsor di money billion questo qua fly emirates ok la stessa identica cosa funziona nel mondo esports ok nel mondo videoludico competitivo con assolutamente dei numeri diversi perché esattamente stiamo parlando attualmente di un altro mercato però è funzionale per loro tu giustamente hai parlato prima valentina di aziende nel mondo della moda ok e forse direttamente nel rapporto si vede che l'esports la musica soprattutto rap e trap e tutto il mondo streetwear sono molto legati quindi il il fan che in un certo senso segue esports segue esattamente questi due filoni no da quel punto di vista lì e quindi noi come team sostanzialmente abbiamo uno sponsor tecnico che veste sostanzialmente i nostri giocatori è un partner tedesco che inizia con la e finisce per di das e in un certo senso è per loro è importante vestire i nostri giocatori il secondo colloquio che io facci con loro più di tre anni fa era noi abbiamo la noi sappiamo che abbiamo un previsionale di vendita inferiore ok non riusciamo in un certo senso a ingaggiare il pubblico che va dai 13 ai 25 anni questo pubblico è anche nel settore esports che in italia si sta formando quindi per noi è congeniale avviare una sorta di partnership sponsorship esattamente con voi e da lì sostanzialmente è nato tutto da lì i ragazzi vestono esattamente prodotti di questa marca e via dicendo stessa identica cosa per le cuffie non citerò magari allora il 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 partner tecnico per le cuffie ma come per lo stesso partner tecnico da un punto di vista sportivo vuole che l'ionel messi vesta quelle scarpe perché per lui è posizionante il partner tecnico da un punto di vista hardware tecnico è importante che i nostri giocatori usano quelle cuffie quella tastiera quel mouse quel tappetine via dicendo perché il principio è esattamente lo stesso cambia sostanzialmente quello che è poi il settore di appartenenza fantastico grazie mille io mi è molto interessante la questione valentina giustamente dal punto di vista marketing economia commerciale poi da antropologo mi devo fare un po di domande dal punto degli aspetti sociali perché le cose che più mi interessano in questo momento è cercare di capire anche la tua opinione su come viene percepito secondo te non solo dai media tradizionali ma un po dal mondo dalle istituzioni che dovrebbero comunque trattare questo settore sono stati fatti dei passi in avanti secondo me però c'è un inquadramento per i giocatori di sport che vi sentite soli in qualche modo oppure c'è un tentativo di riconoscere questo questo mondo che sta sempre più crescendo cioè su quella domanda è cosa deve fare ancora l'italia per questo settore urca cosa noi dobbiamo fare per farci allora e vado per se noi come associazione socialmente stiamo lavorando con le istituzioni perché è quello che fa poi anche l'associazione oltre che rilasciare dei rapporti è creare un dialogo no con i vari ministeri per cercare di far capire esattamente quello che è il settore esport a quel punto di vista lì abbiamo in questo momento da un punto di vista italiano tutto quello che è la contrattualistica delle manifestazioni a premi ok che è rigidissima cosa che da un punto di vista estero non è così se io devo fare sostanzialmente un torneo con un price pool a livello monetario ho delle serie difficoltà in italia organizzarlo difficilmente non è così in francia non è così in spagna quindi neanche andando in america o in asia ok è totalmente diverso c'è sostanzialmente non esattamente una legge ad hoc ma c'è un riconoscimento ok di quello che stiamo facendo perché in questo momento si parla di manifestazioni a premi e tutti si pensa anche alle scommesse via dicendo in realtà non facciamo parte di quel mondo come non facciamo parte del mondo sportivo i nostri giocatori non sono dei giocatori sportivi ok ma allo stesso tempo ci vuole un inquadramento sia per le società come quella che era mia ma allo stesso tempo per il giocatore stesso noi in questo momento da un punto di vista di contrattualistica siamo più un'agenzia ok per lo stato italiano quindi abbiamo sostanzialmente come un'agenzia di moda ha sostanzialmente delle modelle che sfilano esattamente per determinati partner o brand noi esattamente abbiamo un'agenzia che sostanzialmente ha sotto contratto e quindi ha l'esclusività dell'immagine di determinati giocatori che giocano per nome per conto per questa agenzia quindi in realtà un modulo un modo chiedo scusa per fare e per ampliare quello che il business in italia c'è è normale che se ci fosse un interlocutore dall'altra parte che capisce esattamente quello che stiamo facendo e non limiti il tutto con la burocrazia che sappiamo tutti che da un punto di vista italiano è abbastanza stringente ok sicuramente aiuterebbe il settore a crescere da un punto di vista istituzionale magari verso lo sport che da quello che ho capito poteva essere la domanda annessa è in questo momento l'isport non ha bisogno di quello che è di un riconoscimento sportivo ok può essere interessante questo assolutamente non dimentichiamoci però che a differenza dello sport tutto quello che è il mondo videoludico ha una proprietà intellettuale che deve essere assolutamente preservata publisher e developer detengono i diritti di quello che il videogioco io non posso organizzare un torneo per nome per conto mio su una proprietà intellettuale di un'altra persona posso però organizzare il torneo dell'oratorio di calcio se ci pensate senza chiedere sostanzialmente nulla nessuno quindi quello che è molto importante che a volte è semplice no il parallelismo ma a volte anche si saltano dei passaggi non so esattamente dove finirà in questo momento il il settore sicuramente un dialogo con le istituzioni sportive può essere interessante noi stessi come come entità abbiamo delle partnership con dei club di calcio abbiamo partecipato con la serie a per nome per conto del cagliari abbiamo una partnership in atto con entella e come calcio e quindi fa fa parte di un grosso indotto il sistema sportivo da un punto di vista sportivo però non sono assolutamente la stessa identica cosa e non vanno secondo me trattati come due prodotti identici perché non sono due prodotti identici ti ringrazio perché mi hai risposto anche la prossima domanda quindi l'hai nominata più spesso no in questa in questo in questi 20 minuti che stiamo parlando xid è tu sei il cofondatore ce ne vuoi parlare soprattutto anche parlare della della tua esperienza negli sports va bene è tragica la storia nel senso che io con questo mondo non ci ho mai avuto che fare fino a 17 anni e facevo tutt'altro in realtà e avevo tutta vedevo il nerd come che giocava al computer come uno sfigato come un raietto esattamente della società cosa che in realtà per alcuni è ancora così ma ma non è mai stato in un certo così queste sono esattamente abbiamo visto troppi film tutti e io faccio un incidente ok su ero sulla neve quindi rimango rischio di rimanere paralizzato e quindi perché mi rompo una vertebra e cosa succede succede che durante la riabilitazione potevo o essere in linea con gli studi o lobotomizzarmi di film e serie tv o lobotomizzarmi davanti al computer se sono qui a parlare di esports sapete benissimo cos'è successo è nata la vena competitiva che avevo da un punto di vista sportivo l'ho messa nei videogiochi e quindi ero anche abbastanza bravino non ero un'eccellenza assolutamente però ho iniziato a girare 18 19 20 anni 21 e quei 4 5 anni l'europa su determinate competizioni videoludiche giocava con lo duty all'epoca con un team di altre quattro persone estere per per lo più e quindi vedevo già dieci anni fa quello che in un certo senso si stava sviluppando il settore da un punto di vista estero non puoi giocare per tutta una vita quindi ho fatto poi una piccola parentesi da pagliaccio web quindi tenevo sostanzialmente un canale youtube avevo un canale youtube da anche 60 70 mila iscritti e quindi facevo il frontman per per quello che era una squadra all'epoca di esports e poi quattro anni fa insieme al mio socio abbiamo deciso di fondare exid che in questo momento per i neofiti è un po come se fosse una polisportiva quindi anziché avere il calcio la pallacanestro il basket ha dei titoli di videogioco quindi in questo momento ne abbiamo fornite fifa rocket league perché secondo noi sono in un certo senso fondamentali per lo sviluppo del settore in italia e del posizionamento dello stesso e all'interno di questi settori come in una polisportiva ci sono delle figure di riferimento da un punto di vista tecnico tecnico competitivo e poi dato che è tutta una parte media ci sono delle persone come grafici social media manager video maker head of content talent manager che in un certo senso seguono quello che è lo sviluppo sia di exid che dei propri giocatori quindi in un certo senso danno una visibilità e un posizionamento e cercano di far crescere quello che è il club da un punto di vista di social perché poi alla fine dobbiamo sempre parlare di numeri più io sono presente nel mercato in un determinato settore più in un certo senso ho possibilità di crescere all'interno di questo settore attraverso delle attivazioni attraverso delle partnership attraverso delle sponsorship è una fonte di monetizzazione diretta in diretta diretta attraverso un merchandising del team più fa no più la possibilità stupidamente di vendere magliette in diretta perché allo stesso tempo i partner che ci si affiancano a noi è per avere un un posizionamento finalizzato sempre però alla vendita e quindi in questo momento exid ha queste due grosse vene una parte da media agency se vogliamo chiamarle una parte competitiva che compete con giocatori per lo più italiani sul territorio nazionale e alcuni anche da un punto di vista internazionale perché alcuni sono veramente molto forti questo è un po il sunto di tutto una piccolissima domanda vale no no io non c'entro niente hai smesso di leggere i libri e le pubbliche la domanda in realtà che volevo fare per ringraziare comunque dell'intervista molto interessante era una piccola domanda mondo gaming in italia è una roba da maschi ma allora se parliamo di gaming no nel senso che sempre una risu sempre una ricerca tramite idea il 50 se parliamo di gaming e quindi anche la signora di voghera che apre l'applicazione gioca candy crash ok è una gamer ok quindi in realtà da un punto di vista gaming e in realtà il rapporto è più o meno uno a uno 52 per cento uomini e 48 per cento signorine donne e quindi no da un punto di vista e sports in realtà perché poi è in un certo senso l'estremizzazione del gaming quindi la fase competitiva abbiamo sicuramente una prevalenza di figure maschile a discapito di quelle femminili però la cosa che secondo me è interessante è che non c'è una lega femminile di e sports ed è una roba secondo me bellissima perché allo stesso tempo chiunque hanno le stesse opportunità da quel punto di vista lì e giocano esattamente nelle stesse competizioni e ci sono team formati da sole anche ragazze che fanno sostanzialmente si fanno valere a discapito sostanzialmente dalla controparte di solito a volte si si tende a settorializzare no e non è così in questo settore secondo me è un è anche una cosa bella da sottolineare tutto questo bello grazie allora noi ce l'abbiamo il prossimo ospite in realtà non ancora quindi se hai un'ultima domanda possiamo se Federico non deve andare via possiamo approfittarne però sono qua stavo facendo un report per il Cagliari ragazzi quindi sarò qua fino alle otto di sera guardiamo un attimo un po ti fa una domanda no comunque in qualche modo hai già risposto ma andando proprio a concentrarsi sul futuro di questo settore tra dieci anni come lo vedi questo settore dipende da come me lo stai chiedendo in questo momento come ti devo rispondere da un punto di vista istituzionale è normale che farà sempre più parte di quello che è una fonte di intrattenimento da un punto di vista giornaliero settimanale di quelli che sono sostanzialmente le nuove generazioni e che poi sostanzialmente saranno i futuri genitori no da quel punto di vista lì e anche per un tema sociale se mia madre stessa non capisce quello che faccio ok e in realtà io capirò esattamente adesso non so non so esattamente non ho una un'ampolla magica quello che sarà magari mio figlio sarà più in un certo senso sensibile no nel farlo anziché guarda non stare lì a perdere tempo ok mi ricorderò sempre queste frasi ma ci sta assolutamente siamo esattamente due generazioni da un punto di vista diverso da un punto di vista economico è un trend che è innegabile che in un certo senso cresce cresce di più in realtà da un punto di vista di fatturato mondiale è superato il billion quindi il miliardo di dollari e stiamo sempre parlando di una parte dell'industria videoludica che da un punto di fatturato a livello mondiale duplica quella cinematografica e triplica quella musicale quindi in realtà stiamo parlando di un gigante che in un certo senso è sempre è sempre stato silenzioso ok e ogni volta che magari viene preso dalla stampa tradizionalista perché non lo so se è diventato i ludopatici o allo stesso tempo è molto più per la cronaca da quel punto di vista lì e cambierà anche questo e sono sostanzialmente convinto che sarà che sarà così probabilmente magari mi auguro non lo so ci sarà anche la possibilità di fare una squadra di esports oltre che una squadra di calcio o allo stesso tempo le squadre di calcio dovranno adattare quello che è loro prodotto e dovranno differenziarlo dal non posso solo avere una squadra di calcio ma devo avere anche un team di league of legend schalke ha dovuto vendere quello che è un il suo spot per 32 milioni di dollari in lec che è un torneo in franchise di l'emba di un videogiochi in europa perché è retrocesso da quel punto di vista di però era una grossa fonte di revenue per quanto riguarda il il club quindi sicuramente faranno sempre più parte della nostra della nostra vita quotidiana va bene grazie grazie davvero noi ti ringraziamo lasciamo ovviamente tutto il report per chi ci sta seguendo lasciamo il link al sito dell'associazione così lo possiamo tutti lo possono studiare lasciamo tutti i riferimenti è stata una chiacchierata molto interessante abbiamo risposto anche a un paio domande che erano arrivate quindi vale io sono a posto grazie davvero per le risposte grazie grazie federico per essere intervenuto per essere stato con noi questa questo pomeriggio e per il tempo che ci hai dedicato grazie grazie davvero a voi valentina a voi alessio buona giornata buon lavoro e buone ferie se farete delle ferie ma spero di sì dai mi auguro di sì prossimo mese forse va bene va bene grazie davvero buon lavoro anche a te buone ferie buona giornata grazie ciao grazie 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 grazie